Prende il via Natale a Pordenone, una kermes di festa, musica e tante attività divertenti per grandi e piccini che ci accompagnerà fino all'8 gennaio. In piazza 20 Settembre si aprono le casette no gastronomiche e la pista del ghiaccio, ma soprattutto si accendono le luci del grande albero di Natale e le luminari a basso consumo energetico nel centro città. Il nostro obiettivo è quello di combattere la depressione, l'angoscia e la paura che attanagliano Pordenone e ovviamente tutto il paese, legato al fatto di aver attraversato due anni di pandemia e poi di essersi ricacciati nella più grave crisi economica ed energetica che il paese abbia mai conosciuto. Però noi vogliamo regalare alla città un periodo di festa, un periodo di serenità, un periodo di allegria e quindi la necessità aguzza l'ingegno. Abbiamo cercato di contenere i costi affidandoci anche alla tecnologia, per esempio i led, puntando moltissimo sul supporto delle situazioni culturali, sportive e aggregative del nostro territorio per garantire 250 eventi e di grandissima qualità. Un capodanno poi internazionale con James Taylor Quartel. Ci sono tutti gli ingredienti per passare serenamente a queste feste. È vero anche che abbiamo avuto un apporto fondamentale di parte di amici silenziosi, gli imprenditori, tanti imprenditori che hanno messo in mano il portafoglio per aiutare la nostra città. Istituzioni, associazioni e categorie economiche insieme consentono di poter combattere la crisi anche regalando ai polonesi un Natale indimenticabile. È un Natale a Pordenone con tante novità e graditi ritorni. Una novità la vedete qui, un vero e proprio villaggio natalizio allestito in tutti i dettagli. Oltre alle case dell'enogastronomia si sono affiancate le casette dell'artigianato e poi tante novità in fatto di eventi perché avremo il gospel e blues on the road, la versione invernale del blues on the road, quindi la musica diffusa per le strade, la street band, il baby care per i genitori che vogliono lasciare i bambini per qualche ora qua in biblioteca e magari andare a bere un aperitivo, fare lo shopping natalizio. Tanti eventi per i bambini, tanta musica qua in centro, in piazza 20 Settembre, ma anche per esempio in piazza Risorgimento e nei quartieri. Insomma, un Natale per risollevare gli animi, sfidare la crisi, far sì che anche l'economia cittadina possa avere una boccata d'ossigeno. Anche la cultura alla sua parte, con delle grandi mostre su tutte quelle di Erwitt, uno dei più grandi fotografi internazionali, ma non solo, è anche il biglietto unico per entrare ai musei a un prezzo agevolato, godendosi tutte le nostre strutture culturali. Prossimo appuntamento martedì 6 dicembre alle 18.30, sempre in piazza 20 Settembre, per l'esibizione dei cori dei bambini e per gustare tutti insieme il maxi tronchetto lungo 10 metri, realizzato dai pasticceri dello IAL. Per informazioni sul programma www.commune.pordenone.it slash Natale